Benvenuti a Cagnolomeri! Cagnolomeri ti adoriamo! Casa della splendida famiglia Bassottelli! Che posso dire? Fare il tappeto elastico è il mio forte! C'è pretzel! Al lavoro! Lasciamo il nostro bau oggi! Greta! Forza cuccioli! Andiamo ad aiutare ogni canne di Cagnolomeri! E i loro cuccioli! Paxton! Bau wow! Poppy! Bautastico! Pippa! Da canne! Pedro! Vuoi provare a giocare al riporto? E Pac! L'ultimo che arriva dalla nonna è un biscotto marcio! Dai creatori di Curioso come Giorgio! A cosa giocate? A Chiapparella! Posso acchiappare? È una famiglia! Sto arrivando! Ups! Non posso giocare neanche al riporto con il mio cono! Che crede nel rispetto della diversità! Troviamo un gioco che puoi fare con il tuo cono! Il tutto mentre abbaia in etiche avventure! Basta una scintilla e wow! Puoi lasciare il tuo bau! Fare un cambiamento è importante! Tira su quelle giampe! Prezzale e i suoi cuccioli! Vizie! Vizie! Grazie a tutti.